Perché per me e per la Lega è fondamentale andare a governare ma poi riuscire a governare perché se alla fine si prende l'Italia ma questo vale poi anche per i comuni o per qualunque ente poi ti trovi con delle persone all'interno che hanno dei pensieri di avventuramento opposto ai tuoi ovviamente rimane tutto bloccato e le promesse che tu hai fatto in campagna elettorale poi non le puoi concretizzare. Io anche a Bologna ho adoperato questo pensiero quando si sono presentati a NCD e hanno detto al secondo turno facciamo l'apparentamento ho detto no, uno dei punti fondamentali per me è la chiusura dell'Hub di Via Mattei l'ho promesso ai cittadini che ci hanno portato al ballottaggio unirmi al secondo turno con chi comunque quell'Hub l'ha fatto aprire sul territorio e continuo a mandare gente, sono più di 20.000 le persone passate in due anni da Bologna ovviamente sarebbe stato qualcosa per cui se andava a governare poi sarebbe stata ingovernabile la città e così vale anche per il governo è la stessa cosa.